Entra nel mondo l'olato, da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Ben trovati al meteo. L'autunno si fa sentire, una perturbazione in transito sul nostro territorio porterà qualche pioggia. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 16 novembre. Sul Veneto cielo nelle prime ore molto nuvoloso o coperto. Avremo precipitazioni a carattere sparso nella prima parte della giornata, poi in diminuzione con il passare delle ore e nel pomeriggio non si escludono anche delle schiarite soleggiate. Temperature senza particolari variazioni, minime tra 4 e 9 gradi, massime invece comprese tra i 12 e i 14 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà anche qui in genere coperto con piogge piuttosto diffuse, localmente abbondanti, anche intense sulla costa e sul Carso. Probabile cessazione dei fenomeni nel tardo pomeriggio sera. Temperature minime sui 5-12 gradi, massime intorno ai 13-14 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà per lo più nuvoloso, con deboli precipitazioni, nevose oltre i 1.800-2.000 metri circa, migliorerà poi nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 4 gradi, massime sui 14 all'incirca. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, Atreviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.